Amici di Super G, buonasera. Dopo l'insistere di prevalenti correnti meridionali nei giorni scorsi, l'intera penisola sarà attraversata tra domani e giovedì da venti più freschi atlantici, che garantiranno da una parte temperature più vicine a quelle che sono le medie del periodo e dall'altra una maggior calma atmosferica. Prevalenza dunque al centro nord di nuvolosità irregolare associata anche a qualche isolato piovasco e bello nel resto dell'Italia. In Abruzzo per domani cielo che tornerà ad essere parzialmente nuvoloso o velato ma senza alcun rischio di precipitazioni. La ventilazione sarà debole al più moderata di direzione variabile e a regime di brezza sia nelle aree in più interne che in quelle costiere, il mare calmo o quasi calmo. Infine un'occhiata alle temperature con le minime di questa notte comprese tra 4 e 11 gradi e le massime di domani stazionario e leggera diminuzione comprese tra 10 e 17 gradi. Mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Le previsioni su Super J tornano domani mattina.